I sindaci di Lacquameno e di Casamiccio l'hanno scritto a Berlusconi a proposito del terremoto. Ne parliamo con il sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, una lunga lettera dove chiedete che cosa? Niente, il presidente Berlusconi come tutti sanno quando è arrivato a Ischia ha voluto visitare i luoghi colpiti maggiormente dal sisma e ha dichiarato pubblicamente alla stampa che aspettava dai due sindaci del cratere di avere un elenco di cose desiderate dal territorio all'interno di questo problema del sisma. Noi ci siamo limitati a fare questa lettera, a chiedere l'intervento del presidente per quanto attiene e le cose che non sono state inserite in questo decreto pubblicato la settimana scorsa e per quelle che sono le aspettative che l'isola di Ischia merita in relazione alla fase di ricostruzione. Per quanto riguarda le cose che non sono presenti nel decreto, cosa avete chiesto? Niente, noi innanzitutto questo decreto accogliamo con favore che ha valore retroattivo ma comunque sospende le tasse fino alla sera del 19 di dicembre quindi tenuto conto che il 19 dicembre è domani ti renderai conto che c'è qualcosa che non va. Nello stesso tempo manca il pareggio di bilancio, cioè manca la previsione di ristorare i comuni per quanto riguarda le minori entrate pari a quelle derivanti dalle zone colpite questi fanno saltare gli equilibri del comune, manca quello che il ministro Minniti e il prefetto avevano garantito come assunzione di personale a tempo determinato per l'emergenza dei due comuni di L'Acquameno e Casamicciola, manca un ristoro per i dipendenti alberghieri che hanno perso il lavoro la notte del 21 agosto e quindi praticamente non si vedranno corrispondere la Naspi, manca anche un eventuale minimo contributo agli imprenditori che in tre minuti hanno perso le loro aziende. Poi c'è di più, c'è la fase della ricostruzione dove pare che nella legge di bilancio siano appostati i primi 50 milioni ma spalmati su tre annualità cioè 10 milioni nell'annualità 2018, 20 2019 e 2020 capirai benissimo che è una cifra irrisoria e soprattutto per quello che viene appostato il primo anno la ricostruzione di fatto non parte e l'isola di Schia di questo è molto preoccupato. Abbiamo necessità di interventi, di farci sentire per le norme di attuazione finalizzate alla ricostruzione oltre che alle risorse evidentemente tutto questo non c'è, questo ci spaventa, abbiamo ancora tempo per farlo ma abbiamo necessità che tutte le forze politiche si interessino di questo problema il Presidente Berlusconi ha dato la sua disponibilità ad occuparsene personalmente attraverso i gruppi parlamentari di Forza Italia e quindi è alla stessa lettera che noi manderemo anche agli altri ministeri competenti a partire dal Presidente della Giunta regionale da quale ci aspettiamo un supporto istituzionale a tale iniziativa. Il prossimo step qual è? Il prossimo step è quello di avere incontro urgente col Presidente De Luca già richiesto stamattina a nome di tutti e sei sindaci per andare a sottoporre queste questioni e fare in modo che lui che è autorevole esponente politico e Presidente della Giunta regionale possa farsi sentire nelle sedi opportune, chiaramente De Luca non legifera in questo senso ma per farsi sentire nelle sedi opportune per quello che l'isola di Schia rappresenta all'interno del panorama turistico e del PIL sia regionale che nazionale.